E' durata pochi minuti la tempesta avvenuta nella tarda mattinata di ieri, eppure sono diversi i danni registrati sul territorio. A Rocca d'Aspide, nella frazione di Fonte, un palo della Telecom è stato buttato giù dal forte maltempo, ostruendo una traversa. Sul posto è giunta la Polizia Municipale, con il personale in servizio, l'agente Gianvito Brenca e il luogotenente Michele D'Angelo hanno veicolato il traffico e seguito tutte le operazioni di ripristino e messe in sicurezza della zona, in cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Danni ingenti anche a capaccio pestume, gli ombrelloni e le attrezzature degli stabilimenti balneari sono stati ribaltati e divelti dal vento forte, mentre in via Magna Grecia sono accorsi i vigili del fuoco dopo che un albero si è abbattuto sulla strada, ostruendola e bloccando il passaggio. Le radici dell'albero hanno sollevato anche il marciapiede. Per fortuna non si sono registrati danni alle persone, ma solo tanto spavento. L'albero cadendo ha sfiorato un'auto in transito, bloccati a causa dell'accaduto anche i mezzi del trasporto pubblico, presenti sul territorio per monitorare la situazione, gli agenti della Polizia Municipale Capaccese. Ancora a capaccio pestume, nell'area arcologica, il maltempo ha abbattuto un albero secolare. Tra i simboli del parco è presente nelle foto storiche del sito e sembra che siano addirittura dieci gli alberi sradicati dal vento forte nel comune. Problemi anche ad Agropoli, dove un fulmine ha danneggiato il campanile della chiesa della Madonna di Costantinopoli, sita nel centro storico e dove i rami d'albero si sono abbattuti in varie zone, in località Mattine, Moio e anche in centro. Anche qui i vigili del fuoco e il personale dell'Agropoli Cilento Servizi hanno dovuto eseguire diversi interventi. Problemi anche alle strutture balneari situate sul lungomare San Marco e ad alcune imbarcazioni ormeggiate al porto.